Potrebbe essere Raffaello Fico, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e appena nominato tra l'altro dirigente della ricostruzione privata del Comune dell'Aquila, il nuovo titolare dell'USRC. Al coordinamento dei sindaci dei Comuni del Clatere piace, ma ovviamente servirà il placet del sottosegretario alla ricostruzione Vito Crimi. Gli altri due in corsa sono Alessia Placidi, responsabile dell'edilizia scolastica dell'USRC, e Sergio De Paulis, ingegnere, ex presidente dell'AMA e ex amministratore dell'Aggiunta di Biagiotempesta. Intanto, sino alle nomine, sarà Giovanni Francesco Lucarelli, titolare ad interim degli uffici, provvedimento deciso per sbloccare l'impasse della ricostruzione, ferma da mesi. La terna dei tre, come è noto per l'USRC, è stata decisa dalla commissione insediata a Palazzo Chigi, dopo i colloqui di giovedì dei candidati che hanno superato la prima fase dell'analisi dei curricula. Intanto si dovrà formare anche la terna dell'USRC. Il favorito potrebbe essere il siciliano Salvo Provenzano, già responsabile dell'area tecnica dello stesso ufficio.